ciao e benvenuti in questo nuovo video dove recensiremo il mio ultimo acquisto per la mia auto uno specchietto retrovisore con una dashcam incorporata sicuramente più attenti di voi ricorderanno che ho già recensito varie dashcam e avete ragione anche quelle a forma di specchietto ma questa maggiore funzionalità è più avanzata possiamo montare una seconda camera posteriore e una risoluzione maggiore poi lo ammetto il punto debole verso le dashcam anche se in italia non abbiamo la cultura delle dashcam ma dovete sapere che in alcuni paesi come i paesi dell'est è obbligatorio montarle e inoltre si è anche uno sconto sull'assicurazione oltre ad avere una maggiore sicurezza perché abbiamo un occhio digitale che registra tutto ma è il momento di iniziare iniziamo dall'unboxing tiriamo fuori la confezione vediamo cosa c'è dentro troviamo ovviamente lo specchietto retrovisore che ammetto già dato un'occhiata prima ecco qua questa è la camera frontale cos'altro troviamo ecco troviamo gli elastici per attaccarla allo specchietto retrovisore dell'auto l'alimentatore d'auto e la camera posteriore con tutti i cavi ok è il momento di andare in auto e montare tutto la parte più fastidiosa è sicuramente quella di montare la retrocamera io sfrutto già la retrocamera dell'altra dashcam è compatibile fortunatamente non ho bucato i paraurti ma l'ho montata dietro all'unotto posteriore non il massimo della visibilità però ho fatto prima e mi va più che bene ovviamente per farla funzionare da retrocamera dovete collegarla al cavo della retromarcia anche per la parte anteriore sfrutto i cavi che avevo già passato per l'altra dashcam quello dell'alimentazione e quello della camera posteriore ricordatevi di inserire una micro sd il massimo che accetta questa dashcam è da 32 gigabyte agganciamola con l'apposito elastico ed ecco fatto vedete molto semplice da montare vi mostro la dashcam che avevo prima come vedete si trova un po più distante mi distraevo facilmente mentre in questo modo guarderò sia lo specchietto retrovisore ma nello stesso tempo anche l'occhio su quello che vede la dashcam ora invece vi mostro come si vede la dashcam dall'altro lato del parabrezza dopo aver inserito l'alimentazione basta accendere l'auto e la dashcam si accende automaticamente stessa cosa quando spegniamo l'auto si spegne da sola dopo cinque secondi prova a mettere la retromarcia ed ecco in funzione la retrocamera comoda per i parcheggi possiamo entrare nel menu e settare le varie impostazioni attraverso i pulsanti che si trova nella parte sottostante ecco il menu e l'inglese ma è molto semplice ci sono tutte le lingue tranne che l'italiano ma lasciamo stare da qui possiamo registrare la risoluzione del video in questo caso è full hd poi abbiamo la risoluzione delle foto a 3 megapixel perché possiamo scattare anche delle foto premendo il pulsante possiamo inserire il settaggio del ciclo di registrazione in questo caso ho messo a due minuti possiamo attivare motion detection quando l'auto ha un urto si accende da sola e registra possiamo ovviamente impostare la data deve essere impostata la data precisa al sensore di gravità che può essere più sensibile quindi alto medio o basso o disattivarlo andando su off possiamo togliere il fastidioso bip che sentito ogni volta premete il pulsante poi possiamo impostare i secondi dell'auto spegnimento la frequenza video io la metto a 60 perché sta sui 50 hertz ci sono davvero tanti settaggi basta curiosare un po e in fondo è tutto abbastanza semplice quando vedete questa camera rossa significa che sta registrando tutto quello che vede con la camera frontale ma anche quello che vede con la camera posteriore naturalmente spegnendola si vede come un normale specchietto retrovisore e grazie alla particolare pellicola consente di filtrare i fastidiosi fari delle macchine di notte e anche se è una mezza cinesata la visione notturna funziona davvero bene guardate voi stessi entriamo nella micro sd e vediamo come si vede troviamo due cartelle uno dove registra i file video della camera anteriore e nell'altra cartella troviamo i video della camera posteriore di notte è accettabile di giorno si vede molto bene le targhe si vedono in maniera abbastanza bene ma per privacy non posso mostrarvi i video completi comunque per me più che accettabile anche perché questa dashcam costa al momento in cui registro sui 26 euro e per chi è interessato sotto al video trovate il link per acquistarla su ebay questa invece è la camera posteriore non mi resta che salutarvi e ci becchiamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like ciao a tutti